mister giro giro di boa nel senso che comunque siamo di fronte a una gara molto importante che c'ha tanti tanti risvolti perché dobbiamo comunque tenerlo dietro il messina dobbiamo fare punti e c'è stata una settimana un po complicata tra assenze influenze cose varie quanti ce n'hai come stanno come ci andiamo ad affrontare il messina buongiorno a tutti allora sì partita assolutamente di importanza unica perché sappiamo tutti insomma che è uno scontro diretto dobbiamo continuare su questo trend positivo che abbiamo intrapreso da giuliano in poi la squadra in crescita è molto motivata e sta lavorando in maniera determinata e consapevole della crescita che stanno avendo quindi sotto quell'aspetto mi sento tranquillo sono arrivati dei ragazzi delle facce nuove quindi che ci stanno dando una mano nell'interpretazione delle delle studi all'allenamento con grande professionalità e abbiamo recuperato qualche elemento quindi montaperto della partita e mungo della partita marotta è della partita d'uffizi è della partita che sicuramente ci daranno una mano o dall'inizio o in corsa grazie grazie a te e mister sono arrivati anche detto dei volti nuovi no domani vedremo qualche cosa anche se in panchina di questi volti nuovi e se magari anche pochissimo tempo possono dare un contributo mi riferisco al francese no che è un dom che potrebbe magari penso sia allenato perché ha giocato fino a poco tempo fa in romania se qualcuno di questi nuovi potresti utilizzarlo allora ali è arrivato ieri ha fatto la sua prima seduta con noi non è ancora in condizione perché ha bisogno di qualche settimana di adattamento ai ritmi all'intensità degli allenamenti e alla conoscenza poi delle delle mie proposte quindi quello che poi facciamo in campo no è un ragazzo applicato un ragazzo che comunque secondo me ha buone caratteristiche è un buon buon prospetto per per darci una mano quindi sicuramente non sarà della partita e barilà è stato tesserato quindi verrà in panchina soprattutto per fargli respirare per fargli tornare a respirare quello che può essere il match e quindi anche l'odore dell'erba del prato no del campo e quindi però anche antonino è da mettere in condizione è un giocatore importantissimo e vorrei assolutamente che lui tornasse il barilà di due anni fa di due anni e mezzo fa è un ragazzo con cui ho giocato tante volte contro quindi conosco personalmente la sua forza in campo e se prenderà la condizione giusta è un giocatore che determinerà molto per noi buongiorno mister buongiorno sette arrivi tanta roba si era parlato di giocatori pronti perché la situazione è tale che avremmo dovuto avere a disposizione di gente pronta per giocare quanti realmente di quelli arrivati sono pronti per giocare non dico oggi ma anche nella prossima partita ma sicuramente sono arrivati dei giocatori forti e con poco minutaggio nelle passate stagioni però giocatori che possono possono crescere nella condizione in maniera e me lo auguro breve termine a breve tempo e dei nuovi che poi possono darci una mano immediata come già ho dimostrato montaperto che l'ho schierato titolare e lo stesso Rabiot ha un tempo un tempo e mezzo nelle gambe quindi sta crescendo molto e quindi il stesso Renault che è un ragazzo eccezionale che si sta applicando molto quindi anche lui può essere considerato e poi dall'altra parte però c'è anche lo zoccolo duro che fino a qualche settimana fa magari era così un po' un punto interrogativo che invece sta crescendo tanto quindi io mi appoggio anche su quelli che erano e sono i nostri giocatori quindi abbiamo messo facce nuove rispetto a ai vecchi che stanno crescendo tanto e uno sguardo al Messina e un messaggio invece ai tifosi viterbesi. Allora il Messina è una squadra che sicuramente adesso ha cambiato un po' pelle no perché l'arrivo degli allenatori dà sempre entusiasmo dà magari anche delle certezze è una squadra che ho studiato abbiamo studiato quindi assolutamente in gara con la salvezza è una squadra che viene da una vittoria quindi verrà sicuramente col coltello fra i denti e dall'altra parte ci siamo noi però che siamo in crescita quindi io sono il tipo che mantiene sempre un profilo basso perché assolutamente non voglio illudere nessuno però se vi affacciate negli allenamenti vedete veramente che adesso ci sono ci sono sedute importanti e sembra veramente che qualcosa sia cambiato. Siamo ancora in emergenza abbiamo due squalificati Andreis con la febbre tre infortunati che non sono rientrati ancora soprattutto a centrocampo siamo un po' con la coperta corta no è questo il il dilemma più grande di questa vigilia chi metterà a centrocampo perché difese attacco bene o male penso che le idee siano abbastanza chiare? Abbiamo una certezza a centrocampo che è Megalatis che è un giocatore incredibile e abbiamo altri giocatori che possono sicuramente dare una mano Domenico Mungo è rientrato da tre giorni e sta lavorando bene mi sta dando dei segnali importanti a un giocatore d'esperienza e un giocatore intelligente che cosa vuol dire che nel momento in cui la condizione fisica è un po' ridotta l'intelligenza alla testa poi vanno a soccombere quello che può essere lo sforzo fisico ma guarda io non parlo degli ex non parlo di chi magari ha un po' così il dente avvelenato perché nel calcio si va si viene noi siamo dei professionisti ragazzi e se ci fermiamo e continuiamo a alimentarle poi queste polemiche io vorrei parlare dei miei giocatori che sono dei giocatori forti e che stanno crescendo e che credono molto nel nostro lavoro